Quindi a questo punto andiamo a vedere l'inserimento. In realtà l'inserimento è abbastanza facile, grazie a Dio. È la rimozione, che è l'ultima parte dopo mi mollo, che è un pochino più complicata. Quindi l'idea è la seguente. Vado a crearmi una funzione insertNode che inserisce un nodo associando una chiave a un valore e partire da un albero, normalmente si prende la radice, su cui vado a inserire quel valore. Se T uguale a nil, però, attenzione, vuol dire che sto inserendo la prima associazione chiave valore e quindi devo crearlo l'albero. Perché ricordatevi che all'inizio nel mio dizionario avevo messo T uguale a nil. Quindi non c'è albero in quel caso, non c'è niente dentro. Quindi la insert è facilissima, chiama semplicemente la insertNode. Tutto sta nella insertNode. E vediamo prima un esempio e poi vediamo il codice. L'idea è la seguente. Sopriamo che io voglio inserire 5. È facile in realtà, basta che io lo ricerchi e poi vado a vedere dove dovrebbe essere. Nel senso che se sto inserendo 5 non lo posso inserire in questa parte. Questo risponde anche alla domanda di Dario. Non ci può andare. Quindi è inutile che guardo di qua. Quindi devo andare su 2, ma 5 è maggiore di 2. Quindi devo andare in questa parte qua e non considerare questa. E vado avanti, però trovo 4. 5 è maggiore di 4. Vado su sottoalbero destro, ma U uguale a nil. Non c'è nulla, quindi lo inserisco. Ed è la posizione giusta. Perché quello che succede è che ho seguito la ricerca e mi sono fermato solo nel momento in cui non potevo più trovare quello che stavo cercando. Ma bene, perché in realtà quando io faccio un'associazione chiave valore, o la trovo e la devo sovrascrivere, o non la trovo e l'aggiungo. Vediamo il codice. Allora, vedete, il codice è lungo e complicato, però in realtà sono tutti casi, casetti da gestire. Nel senso che questo è il codice che cerca la posizione di inserimento. Notate che non ho scritto, non ho usato la lookup node, perché mi serve in realtà identificare anche qual è il padre. Quindi qui ho P e U e parto da U cercando se ho trovato la chiave oppure no, e poi aggiorno il puntatore al padre passando al nodo successivo come left oppure right. Quindi quando sono qui ho P, nil e U questo oggetto, ma diciamo che vado a destra. A questo punto P mi diventa questo oggetto e U mi diventa questo oggetto. Poi diciamo che vado ancora a destra. U mi diventa questo oggetto e P mi diventa questo oggetto, in modo che so dove andare a scrivere. Perché mi serve questo? Perché nel momento in cui U è uguale a nil so che ho finito. Quindi quello che succede è questo. Se U è diverso da nil e U.Q uguale a K significa che ho trovato il valore. Scusi, inserendo il 10, ma il 10 c'è già. E quindi l'unica cosa che devo fare è cambiare il valore associato, perché vado a sovrascrivere il valore associato. Invece supponiamo che io abbia raggiunto un nil, quindi non ho trovato quello che sto cercando. Allora quello che vado a fare è la cosa seguente. Vado a creare un nuovo oggetto tree, kv, faccio un link che vi faccio vedere il codice dopo, e poi se P uguale a nil significa che è il primo oggetto che inserisco, perché non c'è un padre, ok? Quello che succede è che questo nuovo oggetto che ho creato me lo vado a mettere nel puntatore che restituirò, perché la mia insert node restituisce un tree, che è o l'albero inalterato, se inserito a sinistra o destra, oppure il nodo stesso che ho appena creato, se è il primo nodo a essere creato. Quindi torno un attimo indietro su questo codice qua e vedete cosa è successo. Nella insert io passo tree, che è... Trovate qua, scusate se devo andare avanti e indietro. No, è troppo in là. Quando io ho creato la struttura dati dizionario, avevo dict e avevo tree uguale a nil, che era la mia variabile che conteneva l'albero, che conteneva il dizionario. Nel momento in cui io passo un valore a nil, quello che succede è che non trovo nulla, perché non c'è nulla dentro, creo un nodo e vado a memorizzare questo nodo in tree. Se invece c'è già qualcosa, cioè c'è già una radice magari con dei figli, vado a inserirlo da qualche parte e ritorno la radice stessa, cioè non vado veramente a modificare questo valore. È solo un trucchettino per gestire i vari casi. Claudio mi chiede, ma se il nodo dovesse finire in una posizione intermedia, non foglia, non può. Guardate a pensare come potrebbe fare a finire in una posizione intermedia. Non so, io ho 3 e 4. Devo inserire, anzi, facciamo così, 3 e 5. Devo inserire 2? Va di qua. Bene. Devo inserire 4? Potrei cancellare questo. Ah, scusami. Anzi, facciamo così. Quindi 2 va a sinistra, siamo a posto. Devo inserire 4? Cosa faccio? Vado a cercarlo, facciamo il 2, vado a cercarlo qua, perché? Perché devo guardare nel sottoalbero di destra, poi vado qua e non lo trovo. Ok? Quindi non c'è modo di finire in una posizione intermedia, perché semplicemente o vado a sinistra o vado a destra, se nel momento in cui non lo trovo, trovo un buco, quello è il posto in cui inserirlo. Poi ci saranno altri valori. Diciamo che voglio inserire il 4.5, vado di qua, vado di qua, e a questo punto dovrei andare di qua, inserisco il 4.5 qua. Bene. Perfetto Claudio. Ok. E niente, questo l'abbiamo fatto, e questo era il codice. Quello che ci mancava era, fatemi ripulire un attimo, non so se capisce un po' meglio, era la link. Allora, questo è un modo che ho scelto, a pomari ci sono modi più semplici per scrivere questo codice e o spiegarlo, però l'idea è questo. Io voglio modificare il padre in modo tale da tener conto del fatto che il padre potrebbe avere un, dovrebbe modificare, nel senso che nel padre devo aggiungere un nuovo puntatore. Devo aggiungere il valore k, ok, e, cioè, devo modificare, scusate, il new per tener conto di come viene memorizzato e mi serve la chiave per sapere se lo dovrò mettere a sinistra oppure a destra. Questa è un po' l'idea. Non mi serve il valore perché tanto l'ho già messo in questo momento, quindi, io mi ritrovo in questo modo. Ho il padre e ho la chiave con, no, scusate, questo è il padre, questo è il nodo U che vedete qua. Questo è il nodo U che vedete qua, ok? Sul padre ho una certa chiave, ovviamente, e così avrò qua, ma mi viene passato anche il valore k. Allora, se U è diverso da nil, questo viene usato nel codice della delit, quindi ignoratelo per il momento, però ve lo spiego, U.parent è uguale a P, cioè, U registro il fatto che il suo genitore sarà P. Se P è diverso da nil, allora, mi devo domandare se devo agganciarlo, linkarlo a sinistra o a destra e confronto chi k con P.chi, e quindi quello che decido è o va come figlio destro o va come figlio sinistro e lo aggancio. Per esempio, il codice è abbastanza semplice, però in questo modo riesco a gestire questo tipo di i casi.